Musica Emergenza coronavirus, il leggero calo di contagi in Calabria, oggi più 9, in totale 1896 Cosenza, insegnante positiva al covid, una trentina di bambini di un asilo nito privato sono stati posti in quarantena Ha preso il via in Calabria l'anno scolastico, alcuni comuni però hanno posticipato l'apertura domani, altri a lunedì 28 Caccia a specie non consentita, denunciate un cacciatore di firma in provincia di Cosenza e sequestrate armi e munizioni Musica